94 persone in più rispetto all'anno precedente sono state prese in carico nel 2017 dal CERT dell'ASD dell'Aquila per dipendenza da droga, alcol e gioco d'azzardo, un incremento di pazienti che è il più alto degli ultimi nove anni e che dà la misura della portata di un disagio sempre più diffuso. Nel 2017, la voce che incide di più in termini numerici è quella delle problematiche legate a sostanze stupefacenti seguita dall'alcol e dal gioco d'azzardo. La droga preferita dai pazienti è l'eroina, seguita da cannabinoidi e cocaina. L'incremento dei casi di dipendenze patologiche ha prodotto inoltre un aumento degli utenti del centro di urno terapeutico del CERT, struttura riabilitativa a carattere semi-residenziale, passati da 132 del 2016 a 136 dell'anno successivo, con netta prevalenza di uomini, 94 rispetto alle donne, 42. Il totale complessivo del 2017 riguardante tutti i pazienti dipendenti in trattamento presso il CERT ha toquato quota 700, il picco più alto del 2008. Il grafico degli anni presi in considerazione dal servizio della ASD, diretto dalla dottoressa Daniela Spaziani, psichiatra, indica che le richieste di trattamento hanno ripreso a salire in modo progressivo dal 2012, quando erano 459. Per quel che riguarda il gioco d'azzardo, il dossier del CERT indica un marcato incremento della patologia negli ultimi sei anni. Il report della ASD scatta una foto molto nitida sulle caratteristiche di questi pazienti, che hanno chiesto aiuto, più maschi, 42, rispetto alle donne, 4. In alcuni casi il gioco d'azzardo è il risultato associato al consumo di alcol e droga.